Il Centro Danza Davoli di Orietta Davoli labora in pianta stabile sul territorio di Lumezzane dal 1973, una lunga tradizione per un sodalizio che nel corso degli anni ha unito tradizione di innovazione, arrivando a contare al momento sui 170 iscritti, numero considerevole che abbraccia diverse discipline dalla danza. Il Centro Danza Davoli è sul territorio dal 1973 e l'Associazione dal 2000, abbiamo circa 170 iscritti ogni anno, ci occupiamo di discipline di danza classica, moderna e pop contemporanea, facciamo diversi eventi sul territorio e anche fuori dal territorio. La fascia d'età dei nostri utenti è quella dai 3 anni agli over, ai 60-65, va bene qualsiasi età, ci esprimiamo meglio con la danza che con le parole.